Non solo Viale Marconi, in Piazza Unione stamani i comitati cittadini hanno presentato iniziative per spingere il Comune a rivedere il progetto e le ormai note quattro corsie, ma anche adottare misure per il commercio a non spegnere la movida. Il comitato Salviamo Viale Marconi assieme ad altri contro l'amministrazione di Pescara rea di spegnere il commercio cittadino. Fabiana Tenerelli, Presidente Comitato Salviamo Viale Marconi. Anzi, dalla nostra presa di posizione si sono uniti tutti gli altri comitati di Pescara, ovvero Pescara Viva di Piazza Muzzi, Corso Mantonè, Pescara il Centro, tutte associazioni e comitati che insieme a noi vogliono far presente all'amministrazione che questa gestione dell'economia di Pescara non funziona. Il commercio è stato penalizzato in tutti i suoi aspetti e dunque noi stiamo pensando un zittino in comune, probabilmente il 20 di questo mese, in cui vorremmo far presente al nostro signaco e a tutta l'amministrazione che per far sì che Pescara vada avanti bisogna ricominciare da capo e trovare un nuovo modo per gestire l'economia e il commercio di questa città. Intanto anche il centro-sinistra regionale comunale in strada in via Paolini di fronte all'ospedale Vecchio per dire no ai nuovi parcheggi a pagamento, 700 in più sparsi in tutta la città. Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico. Sì, inopportuno per il periodo che viviamo per tantissime famiglie che escono dalla pandemia e dal caro energia. Il legittimo anche per alcune sentenze, alcune pronunce della Corte di Cassazione, in particolare una sezione unita nel 2007, una circolare del Ministero nel 2021, che conferma appieno quello che dice in sostanza l'articolo 7 del Codice della Strada, in particolare il comma 8, laddove si dice che le amministrazioni che mettono parcheggi a pagamento devono garantire o nella stessa area o in aree adiacenti un adeguato numero di posti liberi. Tra l'altro le sentenze hanno anche dimostrato che l'onere della prova è a carico del Comune, cioè dell'amministrazione comunale. Quello che noi oggi preventiviamo è che alla prima multa per la mancata esposizione del tagliandino del parcheggio, al primo ricorso, i giudici potrebbero esprimersi in questo modo e allora ancora una volta vogliamo chiedere alla Giunta Masci di tornare indietro da questo irrispettoso e irriguardoso provvedimento dei parcheggi a pagamento.